Buongiorno, mi chiamo Elena Varvello, sono una scrittrice e da molti anni un'insegnante della scuola Holden e oggi vi parlerò di una mia ossessione, non direi della mia ossessione, ma di una delle mie ossessioni più grandi e cioè di Cormac McCarthy. Ci tengo a precisare una cosa, è un'ossessione che non ha nulla di patologico ovviamente, è un'ossessione tranquilla, è un'ossessione calma, per cui in questo modo ve la racconterò. Piccola premessa perché mi sembra necessario. Mi vedrete spesso abbassare gli occhi, c'è una ragione davanti a me e voi non lo vedete, c'è il mio prezioso pc e mi sono accorta che ragionando intorno a McCarthy, e io avevo bisogno di scrivere. In qualche modo Cormac McCarthy, scrittore, chiama la parte di me che sa scrivere, non che lo sappia fare fino in fondo forse, però che preferisce scrivere piuttosto che parlare a braccio. Quindi tutto quello che io penso di Cormac McCarthy ce l'ho qui davanti a me, è come se avessi scaricato la mia mente su un file del mio pc e quindi quello che farò sarà invitarvi nella mia mente scaricata sullo schermo del mio pc, però vi prometto non vi sottoporrò a una noiosissima insopportabile lettura, cercherò di guardarvi in faccia il più possibile. Direi di cominciare. Per cominciare un'altra piccola minuscola premessa, c'è una piccola storia che io racconto spesso, molto spesso, riguardo alla scrittura a cui ho dato un titolo e la storia si chiama Il serpente e poi ce n'è un'altra sempre riguardo alla scrittura a cui ho dato un titolo e questa seconda storia si intitola Il pesce. Non voglio raccontarvele oggi, non c'entrerebbero nulla, è solo per spiegarvi che forse è una deformazione professionale, ormai mi trovo costretta a dare un titolo alle cose, forse è una roba strana, sarà come sarà. Quello che sto per dirvi oggi dunque l'ho intitolato e, così lo sapete, l'ho intitolato Lupi. In questi giorni, pensando a Cormac McCarthy, guardavo spesso una sua fotografia. Immaginatevelo, vecchio ma non ancora troppo, una camicia a scacchi molto ranch, le braccia incrociate sopra un tavolo, un'espressione strana, come se l'avessero interrotto e lui paziente si fosse messo in posa, ma solo per un attimo. Mi piace moltissimo quell'immagine. Philippe Roth descrisse così il viso di Kafka in una foto del 1924 che lo ritraeva. Un'espressione intensa di sbigottita compostezza, enormi paure, un enorme controllo. Nel viso di McCarthy io vedo intensità, vedo la compostezza, vedo un certo sbigottimento contenuto, ma c'è dell'altro lì, in quegli occhi, e io non credo sia paura. Quindi è con in mente quest'immagine di intensità, di compostezza, che vi dirò quello che posso dirvi riguardo a McCarthy. Ora, prima di inoltrarmi, un'ultima cosa è un'informazione di servizio che avrei dovuto darvi tre minuti fa, ma sono disordinata e ve la do adesso. Quando arriveremo alla fine, se vorrete, io molto volentieri risponderò alle vostre domande. Avremo ancora un po' di tempo, cinque, dieci minuti. Quindi quando concluderò questo mio discorso, questo mio breve viaggio, passerò sulla chat in modo da poter leggere i vostri commenti e le vostre domande, per cui potremo dialogare. Quel che è difficile e anche paradossale è parlare di un uomo che in realtà non amava affatto parlare di se stesso. Tenete conto una manciata di interviste, ma io credo giusto alle dita di una mano, non di più. Allora, per dirvi di McCarthy, vi dirò di me, un piccolo ricordo che mi riporta a lui e in particolar modo a uno dei suoi libri, ma non soltanto a quello. Ovviamente ogni parola che dirò sarà soltanto mia, soltanto personale. Visioni personali, dettagli che riguardano qualcosa, l'opera di un uomo, il lavoro di un uomo, che ho solo l'impressione di capire, sempre che si tratti di capire. Perché io credo fermamente in questo. Ciò che leggiamo accade nella nostra vita, ma proprio nella nostra carne. In questo senso accade nel silenzio e non si tratta mica tanto di capire. Ciò che ne ricaviamo, se di ricavo vogliamo parlare parlando di letteratura, è in buona parte non comunicabile. Sapete quegli istanti in cui alziamo gli occhi da una pagina che stiamo leggendo, a certe misteriose, improvvise epifanie, quando pensiamo, ah ecco, sono luci che si accendono e che poi naturalmente si spengono per fare posto ad altro, a un altro racconto, a un altro romanzo, però non se ne vanno. E quindi ecco il ricordo di cui vi parlavo. Andiamo un po' indietro nel tempo. 1996. Un giorno, chissà quale, sceglietene voi uno, ero seduta in una delle aule, della scuola Olden, che allora affacciava su un viale alberato, sopra un caffè e una panetteria. C'era anche un negozio di vestiti troppo caro per me. C'erano grandi, bellissime finestre in quella palazzina in stile Liberty. E quel giorno Alessandro Baricco portò per noi, anime giovani, una trentina di ragazze e di ragazzi, un libro. Il libro, che ovviamente conservo, è questo, spero lo vediate. Il titolo è Complessità, uomini e idee al confine fra ordine e caos. L'autore, Morris Mitchell Waldrop, giornalista scientifico e fisico teorico. All'epoca costava circa 30.000 lire, se non sbaglio. Ora, temo, sia introvabile. E Baricco disse che ci avremmo ragionato, come ragionavamo sul narratore, un saggio imprescindibile di Walter Benjamin. Ci avremmo pure lavorato, scrivendo un testo. Queste le domande. Quando è che un romanzo può dirsi complesso, qual è per voi un esempio di romanzo complesso? Da qui in avanti però io non ho più ricordi. Non so neppure se lo scrissi, possibile che no. Provo una grande tenerezza, un certo stupore per quella ragazza di allora che non sapeva niente e che, ve lo assicuro, non capiva niente. La mia più cara amica, che conobbi lì, in quella palazzina Liberty nel secolo scorso, e che qualche giorno fa mi ha ricordato in cosa quel testo dovesse consistere, perché lei se lo ricorda, lo scrisse come l'ha conservato ed è molto molto prezioso. Ma per entrambe, questo posso dirvelo con una certa certezza, quel giorno aprì come una strada, come uno sguardo, che poi ciascuna a modo proprio avrebbe seguito. E quella strada, quello sguardo, centrano con Cormac McCarthy. Ora io non vi dirò praticamente nulla per non umiliarmi riguardo alla complessità, riguardo alla scienza della complessità. E però vi leggo una delle domande d'apertura nella seconda e terza pagina, perché mi pare significativa, pensando a McCarthy. Una di quelle questioni che sfidano ogni categoria tradizionale e che gli studi sulla complessità tentano di affrontare. Vi chiedo proprio soltanto un istante di pazienza. Perché circa 600 milioni di anni fa alcune cellule isolate cominciarono ad aggregarsi, dando vita a organismi pluricellulari come alghe marine, meduse, insetti e infine l'uomo? E perché a loro volta gli esseri umani dedicano tanto tempo e prodigano tanti sforzi per organizzarsi in famiglie, tribù, comunità, nazioni e società di ogni sorta? Se l'evoluzione si fonda veramente sulla sopravvivenza del più forte, perché mai avrebbe dovuto produrre qualcosa di diverso dalla spietata competizione fra individui? In un mondo in cui i buoni finiscono troppo spesso per essere ultimi perché dovrebbero esistere valori come la fiducia e la cooperazione e perché nonostante tutto fiducia e cooperazione non solo esistono ma prosperano. Complessità in fondo racconta una storia. La storia della nascita di una comunità scientifica, di un gruppo di umani che ancora lavorano, tutt'oggi. La storia di un posto molto strano, direbbero alcuni. Questo posto si trova nel New Mexico, nella città di Santa Fe, fondata da coloni spagnoli all'alba del Seicento, a una cinquantina di chilometri da un'altra cittadina che si chiama Los Alamos, che forse ricordate per il progetto Manhattan, quindi la bomba atomica, e per fisici come Enrico Fermi e Robert Oppenheimer. Nel 1984, una dozzina d'anni prima rispetto a quel giorno in quella palazzina Liberty, a quella media allora, era venuto al mondo il Santa Fe Institute, che poi si insediò un paio d'anni dopo in un convento nel centro del quartiere degli artisti, lungo una strada tortuosa che si chiama Canyon Road. Fisica, matematica, economia, informatica, le neuroscienze, una cosa per me completamente oscura chiamata cibernetica, chimica, antropologia, teologia, biologia, e poi ancora storia, filosofia, paleontologia. Fra loro, in questa comunità di umani, a un certo punto stabilmente uno scrittore. Tutti al lavoro per un'alternativa al pensiero lineare, riduzionistico, settario, dominante nella scienza dai tempi di Newton. Insomma, io mi occupo di questo, tutti occupi di quello, non parliamo fra di noi, ho solo il necessario. Tutti al lavoro sullo studio multidisciplinare, cioè letteralmente oltre le discipline, sconfinato, dei sistemi complessi. Sistemi in cui, per dirla in due parole, sono diversamente coinvolti numerosi fattori indipendenti. Milioni di individui autonomi, per dire, alla base di ogni società. Sistemi complessi ai margini del caos, un punto di equilibrio tra ordine e caos. I componenti del sistema non raggiungono mai una posizione stabile, ma non si dissolvono nella turbolenza. Un campo di battaglia perennemente in bilico fra inerzia e anarchia. Insomma, per dirla tutta, la vita. Ma proprio a farla generale, un altro modo di pensare il mondo, di leggere il mondo, ogni fenomeno, le relazioni umane, un altro modo di pensare. Lo scrittore a cui accennavo, ovvio, era Cormac McCarthy. E io mi immagino a quel punto, seduta in quell'aula, in quella palazzina in stile Liberty, a non capirci niente. Piccola nota a margine. Sapete cosa facevo quando non capivo niente, cioè buona parte del tempo? Disegnavo spirali su un taccuino. Magari un brutto segno. Comunque di sicuro in quel momento stavo disegnando spirali su un taccuino. McCarty, di cui complessità non parla, viveva non lontano, a nord di Santa Fe, giusto qualche chilometro. All'istituto però aveva uno studio tutto suo, uno studio spoglio, giusto l'essenziale, niente di superfluo. Scriveva lì su un olivetti, color blu pallido, il cui rumore, dato che pigiava sui tasti molto forte, attirava la curiosità delle persone in visita. Un giovane post doc che stava trascorrendo l'estate all'istituto, un giorno bussò alla porta, incuriosito, si affacciò, vide McCarty, vide l'olivetti e poi chiese a McCarty, è quella che cos'è? Non aveva mai visto prima una macchina da scrivere. McCarty suonava la chitarra a volte o raccontava storie. Spesso sedeva in biblioteca dove così dicono lavorò alla strada. No cellulare, no computer, mai pubblicato un post ovviamente, mai twittato un tweet. Ma non era un solitario, né tantomeno un misantropo. Amava ragionare, amava discutere, fare domande soprattutto all'ora di pranzo oppure all'ora del tè nel pomeriggio. Faceva domande e stava ad ascoltare. Però non gli piaceva parlare di scrittura, meno che meno della propria. No, mai. Non lo trovava interessante. L'architettura, sì, una grande passione. Frank Lloyd Wright soprattutto. Se non lo conoscete cercate le immagini di un suo progetto, probabilmente il suo progetto più famoso, Falling Water. E la sua idea di architettura organica. C'entra con la scrittura, ve lo giuro. La matematica, la fisica, la fisica soprattutto. L'opera di Wittgenstein, di Montaigne, la teoria dei giochi, la paleontologia, la storia, la caccia, la criminalità, l'etologia, la teologia, l'ambiente, corse automobilistiche, la storia della scienza, qualunque cosa ma non la letteratura. Non sono all'istituto perché scrivo romanzi, per la letteratura. Mi sono intrufolato, disse. Mi piace la scienza, ma devo ammettere ci sono somiglianze. Entrambe, letteratura e scienza, implicano curiosità, l'assumere rischi, il pensare in modo avventuroso ed essere disposti a dire qualcosa che nove persone su dieci non condivideranno. In qualche modo poi, in entrambi i casi, le loro intuizioni hanno a che fare con l'inconscio. Solo una piccola parentesi sulla curiosità. Sentite cosa disse William Faulkner, ve lo leggo. Un tempo pensavo, la cosa più importante parlando di scrittura deve essere certamente il talento. Adesso penso che si debba possedere o si debba allenare la pazienza, provare e riprovare, finché non verrà bene. Ed esercitarsi nell'intolleranza, intendo dire buttare via tutto ciò che è falso. Non conta quanto si ami quel passaggio, quella pagina. La cosa più importante però è la curiosità, chiedersi, rimuginare, riflettere su questo, perché gli esseri umani fanno quello che fanno. Se si è curiosi in questo senso, non penso che il talento faccia poi grande differenza, che lo si abbia o meno. Sono parole a cui Flannery O'Connor, che mi ha insegnato quasi tutto quello che so, avrebbe annuito. Flannery diceva, si scrive per mostrare come si comporta davvero certa gente. E quindi, l'inconscio, dicevamo, luogo d'origine, secondo me Carti, delle intuizioni, che poi diventeranno grandi teorie scientifiche, oppure per qualcuno delle storie. Ce n'è una piccola di storia che proprio all'istituto McCarty raccontò a qualcuno. C'era un ragazzo bravissimo nello sparare in volo durante le battute di caccia alle quaglie. Beccava tutte le quaglie che vedeva. Uno degli altri che erano andati a caccia con lui un giorno gli disse, ma sei davvero bravo, non ho mai visto uno bravo come te. E poi gli domandò, fammi solo capire, spari con un occhio aperto o con tutte e due agli occhi aperti. E il ragazzo rimase lì a pensarci, ci pensò a lungo, infine rispose, non lo so. Immagino McCarty parlasse di se stesso nel raccontare questa storia e immagino parlasse di scrittura. Quel che chiamiamo inconscio è molto più antico del linguaggio, che già ci sembra antico, ed era l'opera ben prima. Pensate a Lucy, l'ominide femmina scoperta in Etiopia nel 1974, datata 3,2 milioni di anni fa. Un ponte fra i primati e l'homo sapiens. Pensate all'inconscio di Lucy, in cammino nel mondo, sotto il cielo stellato, sotto una tempesta. O mentre dormiva, e forse sognava, rannicchiata sul terreno. Pensate al mondo, cosa deve esserle sembrato. Ora non è una questione psicologica l'inconscio nell'accezione di McCarty, biologica piuttosto. Prima del linguaggio quindi, da che mondo è mondo. Però l'inconscio capisce il linguaggio, capisce i problemi su cui ci arrovelliamo, espressi linguisticamente, come devo fare questa cosa, come posso risolvere il problema, come posso andare avanti. I nostri dilemmi, cioè ciò che vorremmo dire, ciò che cerchiamo di trovare. E a volte, mentre dormiamo, offre una soluzione. O mentre guardiamo fuori dalla finestra, mentre ci laviamo i denti, mentre facciamo la spesa, pof, arriva qualcosa. Dunque è chiaro come il sole che noi non vi abbiamo accesso, almeno non per il momento, se non per quello che l'inconscio mostra. E ciò che mostra sono soltanto immagini. La faccia di qualcuno, un animale, un vecchio frigorifero buttato via nella neve, un bosco, le mani di un padre che stringono le mani di un figlio. E anche le cose più strane. Pensate ai sogni, ma non soltanto ai sogni. Immagini, visioni. La strada che gli valse il premio Pulitzer, stavo per dire Nobel, vorrà dire qualcosa, incominciò così. Primi anni 2000, in un motel di El Paso, Texas, in cui McCarthy soggiornava con il figlio Johnny, il suo secondo genito, nato nel 98. Va bene, McCarthy non riusciva a dormire. Così, verso le tre di notte, davanti alla finestra, al buio, guardando il Paso, le sue luci notturne, le linee dei rilievi, si domandò che ne sarebbe stato di quella città cent'anni dopo. Dunque si pose una domanda. Ed ecco, all'improvviso, immaginò una linea di fuoco sui rilievi, lungo le colline. L'orizzonte in fiamme. Lo immaginò, lo vide. Quell'immagine gli risali dal buio, dal luogo inaccessibile che chiamiamo inconscio, che capisce il linguaggio, capisce i nostri dilemmi e, puff, ci dà qualcosa. E così McCarthy pensò a suo figlio, a cosa avrebbe fatto per il figlio, il piccolo John, se il mondo fosse andato in cenere. Cosa farei? Fino a che punto riuscirei a spingermi per tenerlo in salvo? Che cosa sei disposto a fare? È una delle domande tutte semplicissime e tutte radicali che stanno al cuore della letteratura di quest'uomo. E poi, tornato a Santa Fe, di nuovo all'istituto, si presentò a Doug Erwin, paleobiologo, per chiedergli i dettagli riguardo all'estinzione di massa del Cretaceo, circa 65 milioni di anni fa, che portò alla scomparsa di quasi tutte le specie vegetali e animali, compresi, ovviamente, lo sapete, i dinosauri. Quanto era grande l'asteroide? Per quanto tempo la nube di polvere, seguita all'impatto, aveva appestato l'atmosfera? E la propagazione dei detriti? E le foreste in fiamme? Voleva dettagli, però non disse mica a cosa gli servivano. Erwin rispose e gli consigliò dei libri. Chissà perché, deve aver pensato, gli interessa tanto questa roba. Realizzò più tardi, leggendo la strada, che senso avessero tutte quelle domande. Ma c'era stata quell'immagine nel buio della notte, prima quell'immagine, poi le domande, poi la scrittura. Semplice, all'apparenza, raffinatissima in realtà, frutto di una tecnica che nasconde se stessa, che si fa invisibile e dunque, per me, è la tecnica migliore. Le storie, dicevamo, il punto in cui origina una storia. E va bene, ma che ce ne facciamo? Che dobbiamo farne poi? Scusatemi. Inoltre il confine, uscito nel 1994, secondo volume di quella che noi chiamiamo oggi Trilogia della frontiera. Billy, che è il giovane figlio di un allevatore di bestiame nel New Mexico, spedito da suo padre a catturare un lupo, anzi una lupa, flagello del bestiame, va a chiedere consiglio a un vecchio cacciatore, Don Arnulfo. Ma come si fa a prenderli in trappola, sti lupi? Ne ha messe già parecchie lui di trappole. La lupa le ha di sotterrate e le ha fatte scattare. Ciao! Il vecchio, che è proprio vecchio, gli dice cose bellissime, incomprensibili. E poi a un certo punto gli dice, il lupo è inconoscibile, non lo si può conoscere. Il lupo o quello che sa il lupo, come non sappiamo quello che sa una pietra, quello che sanno gli alberi o quello che sa il mondo. Il lupo è come un fiocco di neve. Puoi afferrare un fiocco di neve, ma quando ti guardi in mano non c'è più. Prima di poterlo guardare è scomparso. Se lo vuoi vedere, devi scendere a patti con la sua natura. Se lo afferri lo perdi e da dove va a finire non si ritorna più. Neppure Dio è in grado di riportarlo indietro, Billy. Il lupo è fatto come il mondo, non si può toccare il mondo, non si può tenerlo in mano. è fatto solo di respiro. Prima che Billy se ne vada, il vecchio gli dice ancora qualcosa sul fuoco. E poi Billy se ne va. Quello che puoi fare con la lupa, questo succede poi a Billy quando alla fine sei riuscito a prenderla. Ciò che puoi fare con le storie, con la scrittura, dico io, non è spararle né portarla al ranch. È silenziosamente riportarla a casa, oltre il confine con il Messico, da dove lei proviene. Ed è esattamente questo quello che fa Billy. Vi leggo un piccolo passaggio del romanzo. Che cosa ne vuoi fare di quel lupo? È una femmina. Cosa? Una femmina. È una femmina. Al diavolo non fa nessuna differenza. Cosa ne vuoi fare? Lo sto preparando per portarlo a casa. A casa? Sì signore. E per quale stramaledettissima ragione? È una storia lunga. Portarla a casa in tutti i sensi in cui lo si può fare. E se qualcuno dovesse mai sottrartela dovresti andare dove lei e stare ad aspettare per potertela riprendere. E se qualcuno la facesse combattere magari con i cani in un'arena per farne spettacolo e tu non potessi liberarla, beh allora meglio sarebbe ucciderla che abbandonarla là e poi prenderne il corpo e riportarlo comunque a casa. Sentite ancora. Billy chiuse gli occhi per potersela immaginare correre libera tra le montagne, alla luce delle stelle, dove l'erba è umida. Le sollevò la testa rigida appoggiata alle foglie la trattenne o si allungò per trattenere ciò che non si può trattenere. Ciò che già correva tra le montagne. Ovviamente pensò alla strada anche. Quel mettersi in cammino, in viaggio verso il mare, verso sud, nella speranza di poter sopravvivere. Un padre, un figlio in un mondo di cenere, morendo di fame, morendo di freddo, vedendo cose orribili, esseri umani orribili, il bene e il male, l'orrore, un mondo che non è più mondo, ma proseguire insieme parlando molto poco quanto serve. Il ragazzo e la lupa, il padre e il figlio, noi e le nostre storie. Mi diceva Faulkner serve una gran pazienza provare e riprovare e riprovare ancora, perché serve pazienza per riportare a casa quel che si deve riportare a casa. Un piccolo passaggio dalla strada, bellissimo. Il figlio. Non so cosa fare papà, non so cosa fare, tu dove sarai? Stai tranquillo, ma io non so cosa fare. Io sono qui, non ti lascio. Me lo prometti? Sì, te lo prometto. E inoltre il confine anche Billy promette. Promette alla lupa che la porterà fra le montagne, costi quel che costi. Le fa delle promesse e giura che le manterrà. Ecco perché vedete, esiste qualcosa nell'animo umano, mi sembra che dica Meccarti, esattamente qui dentro di noi, un punto vivo, anche se tutto si guasta, se il mondo va a ramengo. Una promessa, una luce, un fuoco. La parola fuoco è ripetuta 72 volte nelle pagine di La strada, perché chi legge se la ricordi bene? Un fuoco invisibile, antico quanto il mondo, che continua a bruciare. E tu devi portarlo a casa in questi tempi oscuri, devi promettere e poi mantenere. Portare a casa il figlio, portare la lupa oltre il confine, portare a casa il mondo, a costo della vita. Portare ciascuna storia a casa sua. C'è sempre stato e sempre ci sarà per noi umani qualcosa di più grande, di più grande di noi stessi, per cui vale la pena di mettersi in cammino, che vale la pena di proteggere qualunque cosa accada. E a proposito di promesse, lo sceriffo Bill, protagonista di Non è un paese per vecchi, 2006. Sul finale del romanzo, Bill ricorda un abbeveratoio in mezzo all'erbacce. Moltissimi anni prima. Non sa da quanto tempo fosse lì, più di cent'anni forse, magari anche duecento. Scavato nella pietra, a colpi di scalpello. Pensate che immagine perfetta, pensando alla scrittura. Un blocco di pietra, uno scalpello. Qualcuno che scava la pietra un giorno dopo l'altro, senza proclami e senza aspettative, se non ricavarne un abbeveratoio, cioè qualcosa da cui qualcuno, un giorno, se avrà sete, potrà bere. E ora vi faccio sentire la voce dello sceriffo Bill. Una volta guardai quell'abbeveratoio e mi misi a pensare. Mi misi a pensare all'uomo che l'aveva fabbricato. Si era messo lì, aveva scavato un abbeveratoio che sarebbe potuto durare diecimila anni. E perché? In cosa credeva? L'unica cosa che mi viene da pensare è che aveva una sorta di promessa dentro il cuore. Io non ho certo intenzione di mettermi a scavare un abbeveratoio in pietra, ma mi piacerebbe essere capace di fare quel tipo di promessa. È la cosa che mi piacerebbe più di tutte. Poco più avanti, Belle ripensa a suo padre. Due sogni dopo che il padre è morto. Il primo lo ricorda poco, ma del secondo ricorda tutto, perfettamente. Ed ecco questo secondo sogno. Io ero a cavallo e attraversavo le montagne di notte. Attraversavo un passo in mezzo alle montagne. Faceva freddo, a terra c'era la neve. Lui mi superava col suo cavallo e andava avanti, senza dire una parola. Continuava a cavalcare, era avvolto in una coperta e teneva la testa bassa. E quando mi passava davanti mi accorgevo che aveva in mano una fiaccola, ricavata da un corno, come usava ai vecchi tempi. E io vedevo il corno alla luce della fiamma. E nel sogno sapevo che stava andando avanti per accendere un fuoco, da qualche parte in mezzo a tutto quel buio e a quel freddo, e che quando ci sarei arrivato l'avrei trovato ad aspettarmi. Il fuoco è la promessa, vedete, la strada, andare oltre il confine, insieme a ciò che abbiamo di più caro, riportare ciò che abbiamo di più caro a casa. Una delle pochissime cose che McCarty disse riguardo alla scrittura, colpo di scena, e io ovviamente ve la devo leggere. Provate a immaginare di ascoltare lui, dovunque gli sia adesso. Allora McCarty riguardo alla scrittura ha detto questo. Hai sempre quest'immagine della cosa perfetta, che non puoi mai raggiungere, ma non puoi smettere di tentare di raggiungerla. Quest'immagine interiore di qualcosa di perfetto è al cuore dello scrivere, ed è la tua guida. Non la raggiungerai, ma senza di lei non arriveresti in nessun posto. È che devi prendere la cosa seriamente, devi confidare in quello che verrà. Devi prendere la cosa seriamente. Le storie, la scrittura, il mondo intero, il bene, il male, una promessa e l'esservi fedeli, l'essere fedeli gli uni agli altri. E quando tutto va a ramengo, quando non resta che la cenere, ebbè lo devi prendere più seriamente ancora. Nessuna nostalgia dei tempi andati, nessuna speranza di un futuro meraviglioso. Ma portare quel fuoco, un giorno dopo l'altro, oggi, adesso, tenendosi in cammino nella cenere, portandosi l'un l'altro. Sentite ancora dalla strada. Ho paura. No, va tutto bene. No, invece. Ma sì, era solo un sogno. Ho tanta paura. Lo so. Ascoltami. Cosa? Quando sognerai di un mondo che non è mai esistito, o di uno che non esisterà mai, e in cui sei di nuovo felice, vorrà dire che ti sei arreso. Capisci? E tu non puoi arrenderti. Io non te lo permetterò. E così, per chiudere il cerchio, in quella palazzina Liberty, nel 1996, una ragazza di 25 anni, che disegnava spirali su un taccuino, sempre seduta in fondo, sempre zitta, che non sapeva e non capiva niente, si era imbattuta nella complessità, il punto di equilibrio tra ordine e caos. Ebbè, la letteratura sta in quel punto. Lei, io, l'avrebbe realizzato solo in seguito e in un modo o nell'altro ci avrebbe speso la sua vita. McCarty ci è rimasto sempre là, nel punto di equilibrio. Leggete l'ultimo romanzo, Il passeggero, di cui non vi ho parlato per pudore, per una sola semplice ragione. Dovrò rileggerlo una, due, tre, quattro volte prima di potervene davvero parlare. Quel giorno del 1996, non mancava molto, quella ragazza stava per incontrare l'uomo seduto nel suo studio a Santa Fe, New Mexico, con la sua Olivetti blu pallido e il ticchettio dei tasti. L'uomo che amava discutere e fare domande e che non parlava di scrittura. Ma che cosa ne vuoi dire? Quel passeggero in viaggio che le avrebbe insegnato che le cose importanti le devi riportare nel posto da cui vengono e devi andare fino in fondo. Si portano fin là e non un passo indietro, senza parlare troppo. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, magari neppure ci si riesce, ma lo si deve fare, se no di noi non resta nulla, niente che valga almeno. Soltanto sogni, soltanto parole al vento. E invece è una faccenda seria. Sentite, un ultimo pezzetto di la strada. Dobbiamo andare avanti, disse l'uomo, forza. Ma non ci vedo, lo so, facciamo un passo per volta. Ok, non mi lasciare la mano. Ok, qualunque cosa succeda, qualunque cosa succeda. McCarty ha scritto, il mondo non sa che siamo qui, che siamo stati qui, al mondo non importa. Eh, ma noi sappiamo che lui c'è il mondo e vogliamo conoscerlo. Noi sappiamo che ci siamo. Io so che tu sei qui, tu sai che io sono qui, in questo momento io so che voi siete qui e voi a vostra volta sapete che io ci sono. Ecco perché scriviamo storie. Stare nel cuore delle cose lo chiamerebbe Philip Roth e da quel punto raccontarle. Probabilmente penso alla mia ossessione buona, tranquilla, per McCarty e soprattutto per la strada. Non è che l'ossessione per la letteratura, per la scrittura e per le storie, viste esattamente in questo modo. È la visione con cui ormai io convivo. Senza credo che mi sarei perduta, perché era quella giusta, almeno per me. E dunque quella visione c'entra con la complessità, con il 1996, con un'amica e con un'insegnante, con una palazzina in stile Liberty, bella, con quello che ho promesso come il padre, come Billy, di riportare a casa. Un'ultima cosa che vi vorrei leggere di McCarty. Beh, queste sono parole ancora del padre al figlio. Beh, io dico che siamo ancora qui. Sono successe un sacco di cose brutte, ma noi siamo ancora qui. Ecco, questo era quello che io volevo dirvi, quello che potevo dirvi nel tempo che avevamo a disposizione riguardo alla mia ossessione quieta, tranquilla per Corma McCarty, che fra parentesi non penso non ci sia più, io penso che ci sia e come. E ora io passo dall'altra parte, dove temo che mi vedrò, e questo è inquietante, ma insomma ogni tanto bisogna farlo. Magari tolgo l'audio, potrebbe essere una cosa interessante, perché sennò io sento tutto e mi sento anche con un certo ritardo. Io sono qui, se c'è qualche domanda, se avete qualcosa... Ecco, dovete scrivere in chat, sì ecco, perché io parlo parlo, ma poi non dico le cose essenziali. Sono proprio un genio, capite? Genio tecnologico. Io vedo tutto e vi saluto, vedo adesso i vostri saluti e quindi li ricambio. Avrei voluto che vivesse 200 anni, di più no? Un po' di più. Simona, ciao. Io non vi saluto tutti, ma è come se. Grazie. È bello che io mi muovo, però vedo poi i miei movimenti mezz'ora dopo. Interessante. È una forma di sdoppiamento di personalità. Adesso che ho finito di parlare farò questa cosa scorrettissima. Ho dovuto fare. Voi chiudete gli occhi e non vedete niente. Siete ancora? Ci siete? Sì, perché io ho detto fermamente voi siete qui, io sono qui. Spero o siete scappati, o siete ammutoliti, o siete sconcertati, o siete, non lo so, una reazione possibile. Oppure conoscete Meccarti molto meglio di me. Ah, una domanda. Qual è il romanzo di Meccarti che mi ha colpita di più? Ma io ho letto tutto e devo dire che ogni romanzo è indispensabile. E qui la mia memoria setaccia e diciamo che la mia memoria continua a tenere nel setaccio la strada. Non direi però che sia il romanzo di Meccarti da cui partire, Contonella. Difficile forse partire da qua. Direi di non partire dal passeggero, l'ultimo, se proprio non si conosce nulla di Meccarti. Probabilmente dalla trilogia della frontiera. Ecco, io partirei da quei tre romanzi. C'è un aspetto religioso nell'auto? Nella macchina in generale? Perché Meccarti amava le corse automobilistiche? Io penso che ci sia un aspetto, ci sia una sacralità in qualunque cosa. Se Nicola, se ti stavi riferendo alle automobili, c'è una sacralità in qualunque cosa, se si è curiosi rispetto al mondo. Quindi forse sì. Qual è la caratteristica più importante che definisce un bravo scrittore secondo lei? Indefinibile. Non lo so. Non lo so, è difficile. Hemingway avrebbe risposto così. Beh, ci vuole un grande bullshit detector, cioè un rilevatore di stronzate. Mi sembra che questa possa essere una risposta interessante. Nell'ultimo, il passeggero si può considerare che abbia portato la storia a casa, visto che è previsto un seguito. Beh, io penso che, secondo, teniamo conto che ci lavorava da vent'anni e che a Santa Fe nessuno sapeva esattamente cosa stesse facendo. Io credo che con Il passeggero e con Stella Maris, Meccarti abbia preso tutto, tutta la sua letteratura a partire dalla frontiera e l'abbia esattamente portata a casa. Il suo parere su Satri è uno dei libri a me più lontani. Io non lo rileggo da molti anni. Come ho detto all'inizio, sono soltanto pure impressioni personali, quindi non significano niente. Però è quello che io sento più distante da me, per qualche ragione, che non saprei spiegare. Sunset Limited è meraviglioso. Come trovi i personaggi femminili? Trovo i personaggi femminili di Meccarti così come trovo i suoi personaggi maschili, cioè io non li ho mai separati. Come trovo i predicatori, come trovo i vecchi cacciatori. Io li trovo sempre del tutto veri rispetto alla storia in cui vivono. Quindi l'unica cosa che penso è proprio questa. Ah, autore. La religiosità dell'autore, non dell'auto. Ma Meccarti avrebbe detto no, avrebbe detto io non credo in alcun piano divino. Eh, però se noi dovessimo cercare la parola Dio nei suoi romanzi lo troveremo spesso. Quindi per me sì, c'è. C'è una profonda spiritualità. Poi si lega curiosamente alla scienza, all'amore per la scienza. Quindi il saggio di cui vi parlavo si intitola Complessità, pubblicato all'epoca da, ora ve lo dico a chi se lo ricorda, pubblicato all'epoca da Instar Libri, però non si trova veramente più. Dovete essere fortunate, fortunati e trovarlo in bancarella. Come fa il maestro a tenerci attaccati nei suoi discorsi sulla fisica? Come fa a farci capire parlando di cose che la maggior parte dei lettori non sa? È impossibile rispondere. Un giorno però proverò, magari se ne avrò la possibilità, a parlarvi del passeggero, cercare di dire qualcosa di sensato. Chi può essere il suo erede? Non credo che ci sia bisogno di un erede di McCarty, come non c'è bisogno di un erede di Roth, come non c'è bisogno di un erede di Elsa Morante o di Fenoglio. Non lo so, forse è bello che non abbiano eredi diretti, ma che ci siano metamorfosi. Ecco, continue metamorfosi. E poi in fondo ognuno di noi lettrici e lettori di McCarty è un po' il suo erede, ciascuno nella sua forma. C'è un'affinità con Marilynne Robinson? Sì, certo, un certo radicalismo, come c'è un'affinità ovviamente con Flannery O'Connor, quindi penso di sì. Il narratore sceglie le storie oppure le storie scelgono lui? McCarty direbbe che l'inconscio ci offre soluzioni e che quindi ogni tanto fa emergere qualcosa e che quel qualcosa è l'origine di una storia, per cui probabilmente avrebbe risposto non siamo esattamente noi a scegliere, ma insomma di chi ci innamoriamo siamo noi a scegliere? Forse in parte, in parte no. Il finale dei suoi romanzi La strada, Satri, Meridiano di Sangue sono impressionanti. Geniali colpi di teatro o cos'altro? No, perfette derivazioni della storia che li precede. I finali di McCarty, come tutti i grandi finali, sono esattamente ciò che quella storia deve presentare nel suo passo finale. Non penso che siano colpi di teatro. Ovviamente c'è tecnica, ovviamente c'è consapevolezza, però sono l'unico modo in cui ciascuna di quelle storie potrebbe finire. Quale colonna sonora abbineresti alla trilogia? Non lo so, Sergio Leone. Non ne ho idea, forse è la colonna sonora di qualche film di Sergio Leone. Emanuele, caro, i dialoghi sono il suo punto di forza inimitabile, sei d'accordo? Io penso che lui abbia, ogni pagina rappresenta un punto di forza, ma i due punti di forza sono i dialoghi e le descrizioni del paesaggio, che forse sono, non so, in questo momento della vita penso che siano ancora più belle dei dialoghi, però i dialoghi sono inimitabili, è vero. Sai che non sopporto la letteratura americana, dammi una buona ragione per leggere McCarty, tre parole grazie. Perché bisogna leggerlo? Ci ho messo un attimo, ma sono tre parole. Non so, non credo ci sia una buona ragione perché, ma perché per me non leggerlo è come perdere un pezzo di mondo, ecco sì, pezzo importante di mondo. Oppure diciamola così, lo sguardo di qualcuno sul mondo e di qualcuno che ha avuto quello sguardo. E secondo me non leggerlo vuol dire perdere qualcosa. Va bene, io direi che vi saluto, è stato un grande piacere per me e spero di rivedervi presto con un'altra ossessione perché, come potete immaginare, altre ce ne sono. Buona giornata.